Non ci sono più speranze per Erika Pioletti e la 38enne di Beura Cardezza ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino dallo scorso 3 giugno, quando nella calca di Piazza San Carlo ha avuto un infarto da schiacciamento. Dall'ospedale torinese fanno sapere che gli esami effettuati hanno accertato un gravissimo danno cerebrale a prognosi pessima. Purtroppo ci si aspetta il decesso della paziente in un brevissimo periodo temporale, al momento non quantificabile. Questo è il bollettino medico di stamani, ma già ieri sera, beh, ora si parlava di morte cerebrale della giovane usolana, vittima della folla impazzita che aveva creato un'ondata in Piazza San Carlo c'erano 30.000 persone, che ha travolto molte altre persone. Una calca nata dal timore di un attentato. Contemporaneamente alla brutta notizia, la polizia era stata allertata da fonti del Ministero dell'Interno che ipotizzavano la possibile presenza del Ministro Marco Minniti ai funerali che si sarebbero svolti a beura cardezza. Una notizia che ovviamente aveva mosso la macchina della sicurezza. Tutto però è rimasto nel campo delle ipotesi, anche perché stamani da Torino si è saputo che i funerali della giovane verrebbero pagati dal comune capoluogo della regione. Funerali che quindi, ma questo non è ancora certo, potrebbero svolgersi a Torino. Il sindaco torinese Chiara Appendino, in tutti questi giorni, è sempre rimasta in contatto con i familiari della donna. Si era già recata in ospedale anche per ribadire la vicinanza della città. Visita fatta anche dallo stesso Ministro Minniti.